Nel nostro paese non abbiamo ancora capito che la libertà, anche di morire quando ci sono i presupposti, quando non c'è alcuna speranza, quando si perde la dignità, deve essere riconosciuta a tutti. Io credo che lo Stato non debba più interferire nelle scelte di libertà, soprattutto quando ci sono i presupposti. Qualcuno ieri ha parlato del suicidio del fidanzato che si lascia quella fidanzata, banalizzare un argomento del genere non mi è piaciuto. Io ho visto i malati terminali, purtroppo ho avuto un parente malato terminale ed è una cosa che non auguro.